come va pippo cazzarola abbiamo provato di tutto vermoni spinner rapala popper tutto di tutto c'è una panoramica ne abbiamo visti quanti tre belli grossi tre belli grossi tanti piccolini ma non abbiamo visto quell'aggressività che cercavamo e vabbè sarà per un'altra sera l'importante è che ce ne siano in qualsiasi video caricato su youtube dagli americani tre basse fanno le foto ognuno ha un basse in mano come fanno eh si sottoriva così si sente il pop 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 porno provi in mezzo al canale dai lavora bene lui con le palline dentro che fanno rumore con la coda a mosca così è ottimo senti senti perfino lo zoom pippo così potresti vedere la mangiata più bella della tua vita in video si è preso da te ecco qua parte la musica rock sul video chissà perché mi ha scritto ieri sera un americano che è il record della florida di un bus di 21 libre è stato battuto proprio da poco hanno pescato in georgia ecco hanno pescato in georgia un bus da 22 libre dici che è l'ora? sono le 8 meno 7 minuti ti ricarica la volta a me sai come c'è fai perca vero? eh si guarda che se che è iniziata a tutto non 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 no rifallo che ti faccio la ripresa a pelo d'acqua bellissimo bello strike niente niente non è serata vedete sono poco poco sudato stanchezza fisica che si fa sentire io ho deposto l'arma prova a fare l'ultimo tentativo Pippo con uno spinner dai via prova con lo spinner dai o con una rapa come si chiama dai un ultimo tentativo come si chiama con l'agli duck che ne so la bassa con l'agli duck utopia vediamo tutto noi Dio Ken non so perché non lo porta via a mortandella perché sennò che attaccavo quella la prossima volta porto via a raffia quella che si usa per tirare su i delfini presenti da braconieri vediamo su col ganso a strappo a strappo a strappo eh si a strappo quelle bombe direttamente vengo qua con tre raudi e inizia la festa vediamo cosa abbiamo qua di buono questa sera polpette di bavaglia non so neanche io cosa mettere l'agli duck qua è un po' rischioso finiamo ad attaccare sotto ah sotto si si ho paura io di perderlo lo spinner mi vedo delle schine ma non so una la trotta qualche cucchiaino non so si 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 ma quello spinner mi piace assai mi piace assai mi piace assai sai che lo spinner che ho io si da morti da fame e vabbè se si attacca qua il bus ne compro 200 di questi spinner qua guarda che il te maniasso a punta della canna adesso vedi un duccio che ti sbrega la canna in due pezzi lo butti in acqua a bomba chissà così me ne compro una nuova si 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 vedete come lavora questo fa vedere fa vedere si è foraggio vedi oh che bello ostia sembra un polipo lì sotto fa questo gioco questo gioco qua siamo morti sono arrivati i vampiri è l'ora giusta per i vampiri questa qua è l'ora giusta lascio andare giù un po' tanto la c'è un po' più di acqua no? attaccatoli vai mamma mia ora che roba eh lavora da dio eh madonna mia buttaria mi in acqua può mangiarla molla